Nel 2012 è uscito dal gruppo Grey e da allora non abbiamo avuto notizie, mentre oggi incontriamo Roberto Greco, uno dei creativi più blasonati nel panorama italiano, ricordiamo il leone d'oro a Cannes per Peugeot Sculpture, non stiamo qui ad elencare il tuo palmarès, è noto a tutti, ma siamo qui per capire qual è la fase nuova della tua carriera professionale e soprattutto per annunciare una notizia importante perché Roberto Greco è protagonista di una nuova campagna di comunicazione per un nuovo cliente, una nuova azienda italiana che si affaccia per la prima volta sul mercato della pubblicità, quindi un evento molto importante. Allora, brevemente in questo anno e mezzo che cosa hai fatto? Mi sono dedicato alla mia famiglia, ho continuato a insegnare all'università, alla statale di Milano, ho letto, ho scritto, ho fatto, ho avuto tante idee, ho rivisto i miei vecchi amici ed è venuto questo progetto. Ecco, questo è un progetto importante, scusa ti anticipo di cosa si tratta, stiamo parlando di Cosmo Pharmaceuticals che è un'azienda italianissima che opera ovviamente nell'ambito farmaceutico che nel 2012 ha registrato un fatturato di 64 milioni con più il 77% con utili impressionanti, quotata la borsa di Zurigo, è entrata nel mercato americano con grande successo perché si occupa di farmaci relativi alle patologie intestinali, in particolare del colon e ha deciso di lanciare sul mercato un prodotto da banco che si chiama Zacol, correggimi se sbaglio, che aiuta a mantenere l'intestino giovane ed efficiente. Una sfida difficile perché questo non è un farmaco che cura un sintomo ma che serve a vivere meglio. Sì, è una bellissima sfida che ho raccolto da Cosmo, vanno finalmente sul mercato consumer cosiddetto con un prodotto che fa del bene alle persone ma è difficile raccontare queste cose. Come dicevi tu, un conto è ho mal di testa, ecco una pastiglia che te la fa passare, un conto ecco qualcosa che aiuta il tuo organismo a produrre qualcosa che già produce di suo, che in questo caso è l'acido butirrico e quindi rende il tuo intestino sempre comunque efficiente anche se gli anni passano. Quindi una sfida che è stata lanciata attraverso una campagna televisiva e radiofonica, che la televisione è partita proprio lo scorso venerdì, la radio a metà gennaio, la televisione ricordiamo pianificata da Gianfranco Riccio per Casiraghi Greco, mentre la campagna radiofonica è andata su RTL. Ecco, uno spot che propone un viaggio dentro l'intestino, il corpo umano. È anche una campagna radiofonica molto coraggiosa perché inizia proprio col suono dello sciacquone. Ecco, perché questa scelta? Quello che abbiamo fatto è cercare di rendere semplice e immediatamente comprensibile il prodotto Zacol, che come ho detto prima non essendo un prodotto sintomatico non è così facile da raccontare. Allora, in tv abbiamo trovato un'iconografia semplice, per cui l'intestino diventa un ottovolante, è un ottovolante e diventa un intestino, per raccontare appunto che tutto scorre meglio con Zacolla, anche perché l'intestino assomiglia molto a un ottovolante. E la gioia di avere un intestino che funziona assomiglia molto a quella che si ha quando si va sull'ottovolante. Viceversa abbiamo portato questa semplicissima idea in radio, proprio trovando un'idea molto semplice, che è quella del segnale orario, che racconta la regolarità. Tutte le mattine alle otto meno un minuto su RTL c'è qualcuno che ce lo ricorda e si dice «Bongiorno da Zacolla». Quindi dei messaggi pop, dei messaggi semplici, dei messaggi facili da ricordare, che adesso ci aspettiamo che portino dei risultati, perché la campagna è appena cominciata e ovviamente c'è tutto il materiale punto 20, tutto il lavoro che faranno i venditori, che speriamo porti appunto a dei risultati interessanti. Ecco, nella pianificazione al momento è assente la parte digital. Ci sono dei progetti in merito? Sì, ci sono dei progetti di cui ancora preferisco non parlare, però sicuramente voi sapete che la maggior parte del pubblico del mondo soffre di quella che si chiama webchondria. È molto importante che anche lì noi diamo comunque un contributo, perché stiamo parlando comunque di un prodotto che fa bene naturalmente alle persone, per cui perché non parlarne anche sul web dove poi le persone si raccontano le cose. Per cui al di là del film e al di là della radio, prossimamente ci sarà anche un progetto digitale, diciamo un progetto sul web. Tornando ai credits, appare evidente che non c'è un'agenzia di pubblicità, ma che questa campagna è stata ideata da te. Ecco, è arrivato il momento di spiegarci qual è il tuo progetto professionale in questo senso. Mi piacerebbe parlare di un metodo che io ho sempre chiamato quello iced movie. Gli iced movie sono i film dove, tipo Ocean's Eleven o Topkapi o Sette Uomini d'Oro o Ronin, ce n'è un'infinità, dove c'è un basista, uno stratega, che poi mette insieme i migliori talenti per fare la rapina. Poi ci si divide il bottino. L'idea è quella di mettere insieme, di fare quello che si chiama oggi networking, mettere insieme un network di persone, di talenti, come ho fatto in questo caso. Perché in questo caso voi avete una casa di produzione dove c'è, per quello che penso io, il miglior regista digital che c'è in Italia, con il miglior gruppo di giovani che c'è in Italia, che è Tax Free, diretti da Franco Tassi. Uno dei migliori musicisti, diciamo audio expert che è regista di radio, che è anche Gianfranco Clerici. C'è Beppe Mazzetti dei Cowis con il suo team, che mi ha dato una mano a fare tutto il materiale collaterale, tutto il punto vendita. Cowboy è una delle sigle più amate dagli direttori milanesi per la tipografia, per la capacità di mettere insieme appunto la parte tipografica, la parte esecutiva del lavoro di stampa e ovviamente poi ci mettiamo insieme anche i media, cioè Publitalia, chi ha pianificato Publitalia, che è Casiraghi, o RTL, i tecnici di RTL, tutto quanto. Mettere insieme dei talenti, dei professionisti di alto livello per risolvere un problema, o per meglio dire per creare un progetto e realizzarlo soprattutto in un modo molto conveniente, molto leggero. Poi non so dire se questo tipo di network potrà sostituire le agenzie o io un domani aprirò un'agenzia. Però c'è una bella differenza tra fare il freelance e fare questo tipo di progetto. La grande differenza è prendersi più responsabilità, aggregare più risorse. Anche gestionali di talenti diversi. Sì, perché io in questo caso mi sono trovato comunque a fare l'account, il producer, il manager, quello che sta tanto tempo al telefono e a fare la cosa che mi piace poi di più, che è la creatività e la strategia. Però essere in grado di realizzare, di produrre qualcosa è una cosa che dà grandissima soddisfazione, senza dimenticare la cosa più importante che è un rapporto intimo con il cliente, per cui si lavora direttamente con il cliente senza troppe mediazioni, che è uno dei motivi che rendono il lavoro più facile e più efficace e più conveniente nel miglior tempo possibile. In questo momento mi pare di capire che questa è la formula più consona anche probabilmente al contesto di crisi in cui ci muoviamo, in cui è bene forse fare passi molto cauti e non subito attrezzarsi di strutture che poi hanno un costo. Quindi il networking come punto di inizio o d'arrivo? Io direi, come punto di inizio, non ho la presunzione di dire che questo sarà il futuro di tutte le organizzazioni professionali della comunicazione. È chiaro che i team, le unioni, i networking funzionano meglio, sono più leggeri e poi questo per me è il messaggio, che io sono disponibile sul mercato non da solo, non per fare il guru maragi della comunicazione, ma per lavorare, lavorare molto, lavorare poi non da solo ma insieme a altre persone. Ti mancano le agenzie internazionali? Io ti dico sinceramente che mi mancano, perché una delle cose più interessanti della mia carriera è stato proprio lavorare a livello internazionale, lavorare nei gruppi internazionali, fare questo tipo di lavoro però mettendo insieme persone di tutti i paesi, il che non è detto che non si possa continuare a fare. Bene, per oggi ci fermiamo qua, ma continueremo a parlare di Roberto Greco perché è in serbo altre novità. Per ADV Express TV è tutto, Salvatore Sagone.